La cultura della sicurezza alla guida passa soprattutto per una buona educazione stradale. Lo testimoniano i numerosi insegnanti tornati sui banchi di scuola per seguire i corsi organizzati dall'ACI nell'ambito delle attività promosse dall'Osservatorio Istituzionale per l'Educazione Stradale e la Sicurezza nella Circolazione della Regione Lanzi. Cinque appuntamenti nei cavologhi della Regione per approfondire tra i docenti la conoscenza dell'educazione alla sicurezza stradale e riportare tra le aule scolastiche una rinnovata sensibilità verso un tema quanto mai attuale. Le scuole dovrebbero offrire ancora maggior sostegno alla sicurezza stradale perché è il primo impatto che hanno i neo patentati nel mondo delle strade e chi fa formazione e chi fa educazione, un giovane, deve farlo anche non solo nel mondo civico non solo nell'attualità dei temi ma anche in quelli che saranno le operazioni in cui un giovane si cimenta. Quindi andrebbe implementato ancora di più un messaggio di sicurezza stradale che deve essere fatto verso gli insegnanti ma che contiamo di mandare direttamente ai giovani nelle classi degli studi superiori. Per questo abbiamo fatto dei corsi di formazione presso l'Automobile Club Italia dove 1.200 docenti si sono cimentati in una formazione professionale sulla sicurezza stradale e poi le trasferire agli alunni. Niente voti né pagelle ma tanti spunti e approfondimenti per un full immersion nella sicurezza curato direttamente dall'ACI. Sono dei corsi molto particolari perché hanno un'interattività con i partecipanti in quanto nel secondo giorno addirittura abbiamo una pro, un'esercitazione pratica come se stessi in classe preparando un POF, quello che si chiama in gergo, il piano formativo. Questi corsi per l'esattezza sono sei, uno per ognuna delle province Frosidone, Latina, Rieti, Viterbo e due a Roma dove appunto oggi è la seconda quindi concludiamo questo periodo. I corsi rappresentano una nuova conferma della grande attenzione che l'assessorato ai lavori pubblici e l'osservatorio istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione della Regione Lazio rivolgono di concerto nello sviluppo di iniziative che cercano proprio nei più giovani i primi referenti di una reale cultura della sicurezza. Nei prossimi mesi noi ci concentreremo ad intensificare le campagne di comunicazione sociale con un particolare attenzione agli incidenti che avvengono nei fini settimana. Gli ultimi dati della polizia stradale e del territorio ci dicono che anche grazie alle azioni di sensibilizzazione che sono stati fatti finora gli incidenti stradali nei fini settimana soprattutto sulle strade extraurbane sono diminuiti e tuttavia noi dobbiamo proseguire per ottenere dei risultati ancora migliori e salvare molte vite. Un impegno che si rinnova alla vigilia delle feste natalizie invitando gli automobilisti in partenza per le mete di vacanza a mettere in valigia prudenza e rispetto per la sicurezza.